Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Riva Nazano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Tortona risponderanno alla domanda del giorno. Secondo lei qual è un pregio e un difetto di questa città? È un paesino molto tranquillo rispetto al mio vicino paese che è anche Voghera. Rispetto a Voghera la trovo più vivibile. Sotto che punto di vista? Di civiltà, di persone, di come ci si muove. Questo è un pregio, invece un difetto se dovesse trovarne uno? Che ci manca l'ospedale. Che in realtà c'è. Ma non è più, cioè io sono nato a Tortona ma non potrà più nascere nessuna Tortona. Ma questo è un difetto secondo me. Le rispondo subito, immediatamente. Ne avrei tante di risposte da darle. Le dico solo che a Tortona nessuno non ha fatto niente a una vergogna. Guardi solo l'ospedale all'avanguardia perché è il signore all'occhiello. Noi dobbiamo andare a Novi Casale. Sono già arrivati a morire perché l'ospedale qui l'hanno chiuso. È un ospedale che non ce n'è in tutto il Piemonte. Quindi il fatto che l'ospedale sia stato abbandonato, lasciato morire? È grazie a tutti i politici che in effetti adesso sono tutti lì che ti regalano tutto. Io sto aspettando tutti i regali che mi stanno proponendo. È una vergogna veramente. Un'Italia, guardi, da schifo. Demoralizzati veramente in tutto e per tutto. Se dovessi chiederle invece di trovare magari con difficoltà però un pregio di questa città, cosa mi risponde? Adesso come adesso niente perché siamo allo sfascio in tutto e per tutto. Le strade, in tutto, delinquenza. Gente che ogni tre passi ti dicono, chiedo se purtroppo non glieli puoi dare, cosa ti fanno? Parolacce su parolacce. Parla di chi chiede soldi ovviamente per strada. A chi mi riferisco, però sono la nostra risorsa, teniamoci anche questi. Per i politici abbiamo lasciato andare via un ospedale all'avanguardia e poi vengono a raccontarci i frottole e poi invece lasciano andare via quello che è nostro e che è una bella cosa, l'ospedale per dire, no? e noi, vecchi, purtroppo i vecchi devono tribulare con l'ospedale. Chi si ammala, sempre i vecchi o i bambini. Io devo andare a Casale, è morta una persona che è poco, che ha girato tre ospedali, è andata di qua e di là e poi è morta perché non c'era posto a Novi, non c'era posto a Alessandria e poi è morta a Dasti. E queste cose fanno male. Con l'ospedale che abbiamo qua a Tortona, stanno ancora spendendo dei soldi adesso per metterlo a posto, a Ufa, no? Sì, è surreale. Un pregio di Tortona? Un pregio di Tortona c'è, se vuol dire come cittadina è bello, non possiamo tanto lamentarci. L'unica cosa è troppo delinquenza e purtroppo non le possiamo, se non ci pensano i politici noi non possiamo fare niente.